Spazi nuovi, un ampliamento di più di 340 metri quadri, importante e significativo in un'area bellissima della città, su cui partiamo oggi con un esperimento che affascina molto, spero, tutta Ancona. Cresce e si arricchisce di nuove funzioni, il museo della città di Ancona con la costruzione di un ulteriore spazio che fungerà da fototeca storica della città, correlativo archivio. Un luogo di studio e aggregazione per gli universitari e le persone intenzionate a conoscere la storia del capologo d'Orico, ma anche un punto multimediale. Tutte queste funzioni si inseriranno su un allestimento di fondo dedicato ad Ancona nel Novecento e nel presente, quindi parzialmente in continua evoluzione. Lo spazio sarà dedicato al Novecento e quindi al tempo recente abbiamo un grande patrimonio che è quello dei cittadini, delle persone che hanno abitato e che abitano la città e quindi per cinque mesi raccoglieremo le loro storie, li intervisteremo, organizzeremo i contributi che la città vorrà portarci per poi costruire su questi contributi un allestimento che effettivamente rende questo spazio lo spazio delle persone e della gente. Vogliamo che questo spazio sia uno spazio molto vivo. Uno staff composto da giovani studenti di architettura e allestitori, professionisti museali, esperti delle dinamiche di partecipazione e dipartimenti tecnologici dell'università, si occuperà di costruire i contenuti dell'allestimento del museo attraverso l'incontro con i cittadini che vorranno partecipare. Si realizzeranno così all'interno del museo nei prossimi cinque mesi laboratori, incontri dedicati a diversi ambiti che permetteranno di raccogliere storie attraverso video, registrazioni, semplici racconti poi elaborati in fase di allestimento. Il primo inizia proprio venerdì 13 e è la mostra dedicata al design di Achille Castiglioni, poi seguiranno altri eventi in particolare legati alle vicende della città, quindi al rapporto tra la città e il mare, al futuro della città immaginato dai giovani. Vogliamo che questi luoghi vivano particolarmente, quindi luoghi anche dedicati all'aggregazione dei giovani, agli spazi studio per gli studenti, alla costruzione di contenuti sempre nuovi. Vogliamo che questo luogo sia costantemente vivo e vivificato. Siamo a Montalto di Cessa Palombo, comune immerso nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in provincia di Macerata, dove oggi, dopo il sisma, viene ristrutturato il nuovo museo e giardino delle farfalle, dove c'è un progetto di condivisione, una delocalizzazione di un'attività produttiva, una volontà di due gestori di andare avanti affinché questo progetto sia di ausilio a una comunità duramente colpita dal terremoto. Sindaco del comune di Cessa Palombo, Gian Mario Ottavi, tutto questo è stato reso possibile grazie al grande sostegno anche di tanti privati che hanno fatto della vera solidarietà in tutta Italia e poi anche dalla parte pubblica. Siamo riusciti a raggiungere un obiettivo che ci siamo prefissati subito dopo il terremoto di fare ripartire questa struttura, una struttura che era una struttura simbolo per Cessa Palombo perché portava qui circa 5-6 mila persone l'anno e quindi era il punto di forza del turismo locale. Il terremoto ci aveva un po' demoralizzato e quindi in un primo momento veramente siamo andati un po' tutti in crisi, però io ci ho sempre creduto e con me e i gestori di questa struttura siamo riusciti a portare avanti questo progetto che riesce a mettere in modo e far conoscere tanti aspetti del nostro territorio. Un giorno importante è un segnale importante per una ripresa e una rinascita. Qui due ragazzi che credono nel territorio, innamorati della nostra terra, hanno rimesso in piedi un'attività che è appunto di riferimento per tante scolaresche e che può dare anche un futuro a un territorio che diversamente sarebbe poco frequentato. Qui siamo in una delle perle del parco, quindi un centro di educazione ambientale gestito da due giovani ma anche con il supporto di tutto uno staff che valorizza l'area, valorizza i sentieri e valorizza i prodotti tipici locali. Cosa sarà il Giardino delle Farfalle? Cos'è da oggi e in avanti? Un luogo di esperienze, natura, quindi si potranno fare visite guidate nel nuovo rialestimento museale, sempre esperienze a contatto con la natura, far avvicinare famiglie con bambini al mondo degli insetti. Abbiamo un negozietto con un allestimento di prodotti tipici, un locale dove poter fare pane, pizza e nostra produzione. Speriamo che questi territori possano riprendere velocemente quello che hanno perduto e anzi fare molto di più. Voi oggi avete presentato un progetto di residenzialità con Silva Pagus. Silva Pagus è un piccolo villaggio laddove in esperienza diretta, quindi wild in natura, le persone potranno vivere e godere della natura, addirittura essere in simbiosi alla natura.